Ciao a tutti, facendo i nomi dalla vostra amica, sì sono qui con un'altra bella scatolotta, la faccio vedere dritta e per questo devo ringraziare Tensky, bellissimo nome, mi piace una cifra, che ci ha inviato, lo ringraziamo tantissimo questo Fon per capelli, appunto Sciuga Capelli e questo è il modello Sky S200, adesso aspettatevi che andiamo ad aprirlo insieme andiamo subito a scartare, volevo trovare un pezzo l'abbiamo accettato perché comunque Sciuga Capelli sono sempre comodi, poi quello che abbiamo noi è un po' adattato allora volevamo provare una cosina anche nuova e questo qua promette bene perché dice che comunque ha un'asciugatura ultra rapida protegge i capelli, appunto l'Asciuga Capelli Tensky è dotato di un motore brushless ad alta velocità con 110.000 g al minuto la velocità del vento raggiunge 23 millesimi, wow, è due volte più veloce rispetto al tradizionale asciuga capelli poi l'asciugatura dei capelli richiede solo 3-5 minuti, il microprocessore ha un monitor appunto per la temperatura dell'aria ma c'è tante cosine, poi riduce la crosta e rafforza la lucidità, wow, la ventola, perché ha una ventola, ha gli ioni wow, che rilascia fino a 200 milioni di ioni negativi che eliminano la carica statica e i capelli ricci ma pensa, wow, è fatto quello che abbiamo, insomma, ha la sua età, ha detto dai proviamo, abbiamo avuto questa opportunità li ringraziamo e sono contenta appunto di provare questo asciugatura capelli della Tensky e niente, portatile anche da viaggio, vi dico un po' tutte le cosine, poi andiamo subito ad aprile pesa solo 380 grammi, piccolo punto portatile, ideale per la casa oppure un viaggio come vi ho appena detto adesso andiamo a vederlo, insomma, tutte le cose che ha, il mini asciugacappelli è dotato di un display LCD HD tutte le sue impostazioni, poi ha una maggiore sicurezza e pulizia automatica perché hanno aggiornato gli asciugacappelli agli ioni con tre funzioni di sicurezza rilevamento del controllo della temperatura, che è molto importante questo, fusibile e interruttore di protezione termica perché tante volte ho notato che il Fonsi, vi ho detto che il mio è un po' datato quello che ho quando si suddiscalda un po' poi si blocca, non va più fatti se lì magari nel bel mezzo, più che altro in estate perché già fa caldo e cosa succede se lì nel bel mezzo dell'asciugatura ti si blocca? e invece questo ha proprio queste tre funzioni rilevamento del controllo della temperatura, fusibile e interruttore di protezione termica sì, vabbè, perché c'ha i bottoni che potete regolare la temperatura e tutto però penso che anche questo sia... wow, scusatemi, ma è bellissimo wow ha un design fantastico qua ci sono le istruzioni mamma che bello che è il colore poi top, scusatemi ha giusto anche perché appunto si può portare in viaggio loro hanno messo anche la bustina di vellutino dove voi potete metterlo, ma fantastica sta cosa bello, mamma che bello mi piace, aspettate, adesso lo unboxiamo insieme lo apriamo e c'è meglio quello che ho al filo bianco cioè vedere tutto questo con il filo rosa tutto rosa no, guardate che bello che è poi ha sul punto vettuccio che a me serve per asciugare quando mi asciugo i miei capelli qua abbiamo che carino no, ma che bello cioè, veramente è puccioso, è bello, è cute veramente cute allora qua invece c'è un punto il cartellino qua ce l'asciugo poi andremo ma anche che ha il il suo bel come si chiama, il sacchettino è troppo bello adesso qua ci sono tutte su appunto le istruzioni fantastico e qua vedete che segna anche mamma mia, mamma mia bello aspettate che lo scartiamo anche dalla carta qua così ve lo faccio vedere bene poi andiamo e lo provo mentre mi asciugo i capelli qua togliamo la carta perché è tutto ben incartato aspettate quando sei senza unghie ragazzi si fa fatica allora ecco qua non vedo l'ora di provarlo perché io poi ho la fissa veramente quello che abbiamo ciao ciao e voilà ma è fantastico no cioè è a calamita ragazzi no veramente fantastico mamma mia dopo quando lo accendiamo giù nel bagno vi faccio vedere perché qua comunque ci sarà appunto l'indicatore il display qua dove vedrete appunto la funzione ma quando è in funzione che adesso andiamo a provare insomma stoppiamo e poi ci rivediamo mentre lo provo in bagno mentre mi asciugo i capelli però guardate quanto è carino no è veramente bellissimo c'è il peso proprio non è pesante e poi è bello piccolino bello maneggevole aspettate così è bello mi piace un botto mamma per questa storia qua ma fantastico beh questo serve perché io mi ritiro un po' con la spazio dei capelli e vado vicino ai capelli con questo bellissimo fatto veramente veramente bene cioè fantastico qua c'è appunto i suoi pulsanti per accenderlo e niente dopo adesso andiamo che la Nika lo prova insieme a voi e appunto andiamo a vedere la Nika che si asciuga i capelli a tra poco a dimenticavo lo trovate in vendita su Amazon trovate il link alla pagina sotto nell'info box mi raccomando con eventuali codici sconto quello che c'è insomma sempre sotto nell'info box e che vi portano alla pagina che attualmente ha dei codici sconto ha un codice sconto poi voi quando andate a vedere ricordatevi sulla pagina di controllare sempre che comunque potrebbe variare o cambiare comunque sia il codice sconto lo trovate e insomma adesso non vi posso dire il prezzo che ha perché comunque come vi ho detto se il codice sconto potrebbe variare e lo trovate sotto nell'info box e anzi detto la pagina che vi porta su Amazon a vedere appunto questo font però adesso bando alle ciance andiamo a asciugarci i capelli Nika ed eccoci qui come vi ho detto prima adesso la dimostrazione sì vedete la Nika ha i capelli Vainaz che non l'avete mai vista altra cosa della mia vita vedete allora l'abbiamo attaccato vabbè giustamente alla corrente e lui si presenta così come vi ho fatto vedere prima potete usarlo senza oppure questo peccuccino che io userò perché io sono comoda con questo perché io mi faccio un po' la piega tra virgolette ecco e qui vi spiego un attimino i tasti così lo accendete lui parte e con questo potete cambiare vedete qua 80 è quella più calda poi qui è fredda e questo è il 50 che io andrò a usare penso il 50 perché sono 80 vediamo e poi altra cosa qui c'è sentite l'intensità del vento la ventilazione dell'aria che esce potete farla di meno oppure più forte poi sempre con la temperatura qua che avete appunto impostato voi adesso prendo un attimo la spazzola aspettate e mi pettino fonandomi i capelli una vera parrucchiera allora aspettate così adesso io lo accendo lascio a 50 se non è abbastanza e io di solito mi faccio la mia mi tiro la piega in questo modo il mio ciucco praticamente mettiamola magari su 50 ma non è su 80 scusateli ma se è aria alta essendo anche ionico non dovrebbe fare l'elettrostaticità questo non vi ho detto tutto e rilascia delle particelle a costa il suo lavoro di asciugare non fa bene poi è bello maneggevole ma è piccolino per quello non è rumoroso assolutamente non è rumoroso come altri si adesso lo sto facendo un po' veloce mentre di solito lo faccio un po' più con calma però non posso fare durare il video un'ora mentre li asciugio i capelli sono già asciutti però sono già asciutti comunque la piega la dà io uso sempre il beccuccino anche con l'altro che ho perché comunque mi tiro un pochino così anche perché se devo andare a tagliare sono diventati lunghi devo fare il mio taglio ancora corto però vedete che comunque per farvi capire l'asciugatura e il mio ciuffo che vi faccio di solito riesco a farvelo benissimo adesso finisco un attimino l'asciugamento e poi ci vediamo un attimino eccoci come vedete adesso ho asciugato tutti i miei capelli sono fatta anche la mia pieghettina sì adesso vi ripeto sono un po' più lunghi è un po' più difficile per me pettinarli però li asciugati bene non è fastidioso l'aria bollente al massimo non è troppo bollente e anche col beccuccino sono riuscita più o meno a farmi quello che volevo ecco niente a me dai soddisfa io lo dico piccolo poi rosa è il top rosa niente vi lascio il link come al solito sotto nell'info box la pagina diretta per andare su amazon dove è venduto e adesso trovate anche il codice sconto del 50% in questo momento perciò quando andate aprite poi vedete ecco insomma ecco se andate subito adesso c'è niente ringrazio loro ringrazio voi e basta al prossimo ciao 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 ciao